... Chiamiamo da un altro liceo, questa volta da quella città che contiene i due elementi contrastanti, un poco da sale, un poco da fiamme, da Napoli, dal liceo Domenico Cirillo, anzi Aversa in realtà, dove fanno un'ottima mozzarella, Angela, Sara, Angela Ciccarelli, Sara Di Lauro, vorrei! Sara, sono della terza C, Sara recita la poesia che probabilmente ha scritto Angela? No, parla qui! Abbiamo scritto insieme! Ah ok, e tu la reciti e lei suona? Lei accompagna, sì! Ah, complimenti! Pro! Vorrei sapere cos'è la vita, carpire il brivido di chi mi ha messo al mondo, tuffarmi negli occhi terzi di un bambino, poter gridare al mondo, sono felice, e poi, e poi, e poi vorrei, vorrei un brivido di freddo, una stretta al cuore, cosa vedo? Barconi con famiglie, pianti strazianti di bambini, disperazione di madri, lottare per la vita, scavare a mani nude, dove sei felicità, amore, dove sei? Parola qui, impotenza estrema, indifferenza comune, calore, solidarietà, parole senza senso, felicità in frantumi, miraggio di chi crede, di chi spera, di chi non si accontenta, di me! Che cos'è la felicità? La vita! Brave Angela, Ciccarelli e Sara Di Lauro, dalla liceo Domenico Cirillo di Aversa, volevo fermare la pianista che aveva messo per sbaglio forse il basso invece del piano, no? Volevi sapere proprio il basso elettrico tu? No Ti volevo fermare, però poi era bello comunque Un applauso per Angela e Sara, dalla terza C del liceo Domenico Cirillo di Aversa Vorrei, si chiamava il loro, la loro opera Grazie